salve a tutti amici e amiche finalmente qualcuno ha ascoltato l'appello della russia di una settimana fa quando chiedeva alla comunità internazionale di condannare l'attacco ucraino nella regione di kursk e infatti una nazione ha risposto indovinate chi la corea del nord che ha condannato duramente l'operazione delle forze armate ucraine proprio nella regione di kursk con questo comunicato che vi leggo che viene dal ministero degli affari esteri coreano il desiderio dell'ucraina di invadere la russia è il risultato della politica conflittuale antirussa degli stati uniti che sta spingendo la situazione sull'orlo della terza guerra mondiale il cremlino a seguito di questa ferma posizione della corea del nord scoprendo così di non trovarsi più solo in questa situazione difficile ha deciso di ringraziare con una foto commemorativa che celebra appunto il matrimonio d'amore e il forte sudarizio fra queste due nazioni libere pacifiche e straordinariamente democratiche vi mostro la foto commemorativa detto questo cari amici passiamo agli aggiornamenti di oggi dodicesimo giorno dell'invasione della regione di kursk da parte ucraina e dopo questi aggiornamenti farò anche alcune considerazioni come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace devo anche celebrare i 10.000 iscritti vi ringrazio di cuore e anche aver superato il milione di visualizzazioni in appena sei mesi da che ho iniziato quindi è un grande risultato per me e immagino che sia dovuto alla mia grande simpatia più che al mio fascino irresistibile anche perché non sono biondo non ho gli occhi azzurri e non vendo pandori e uova di pasqua scherzi a parte se non l'avete ancora fatto pigiate quel bottone iscriviti qui sotto e così il karma vi farà sentire una persona migliore allora siamo al dodicesimo giorno dell'offensiva ucraina nella regione che ormai è diventata un meme dell'internet perché come si dice anche oggi la russia vincerà la guerra domani e come voleva si dimostrare le aree presidate presidiate e consolidate dalle forze armate ucraine stanno aumentando a sud est dove il centro abitato di ghiri è ormai abbondantemente all'interno dell'area contesa a nord est da dove arrivano la maggior parte dei video degli attacchi dronici a nord ovest presso la città di core novo di cui ho accennato anche nei video precedenti gli ucraini sono arrivati fino al fiume che divide la città e che rappresenta un'importante barriera naturale strategica e a ovest vediamo poi che le forze armate ucraine stanno consolidando la posizione nei villaggi che vi mostro e fra l'altro stanno spingendo da entrambe le direzioni in concomitanza proprio con l'altra azione opposta a tecchino tecchino per esempio sarà la prossima città di cui sentiremo molto parlare perché è l'altra città di confine fra ucraina e russia e di importanza come lo è stata su già né più né meno in questi due giorni gli attacchi strategici ucraini sono stati diretti verso le infrastrutture di collegamento russe nella regione sono stati infatti colpiti i ponti le ferrovie e le strade tre ponti solo nel distretto di gluskovski che tagliano i rifornimenti così ai russi o quantomeno li rallentano i progressi da parte ucraina che vi ho mostrato stranamente sono abbastanza aggiornati anche sulla mappa di deep state non frantendetemi però tutto quello di cui vi ho parlato non è proprio in tempo reale i dati più freschi sono di un giorno fa in sostanza quindi quello che vi sto mostrando risale a due tre giorni fa fate attenzione per esempio ai cambiamenti che si vedono fra il 15 agosto e il 16 dove vediamo le proiezioni delle forze armate ucraine a est e apparire quello che li concina del 488 reggimento russo così anche li concina dei reparti dei marine russi la flotta a san pietroburgo che ha spostato proprio la brigata navale che sarebbero dei fanti di marina più che l'equivalente dei marines americani diciamo così il 17 agosto poi vediamo due piccoli aggiornamenti a nord e a ovest qui e qui e il 18 giusto ieri il consolidamento delle posizioni in larghezza verso est e in tutta l'area a ovest questa è la rappresentazione della situazione a ieri 18 agosto sempre per restare sul tema delle azioni ucraine ieri è stata colpita duramente la raffineria e i silos di soccaggio del petrolio a proletarsk nella regione del rostov che sta ancora bruciando per quello che sappiamo almeno sappiamo che ha bruciato per 24 ore quindi probabilmente gli incendi sono stati contenuti adesso in queste ore che vi sto vi sto parlando e questo è stato l'ennesimo successo strategico da parte ucraina ora da parte russa invece ci sono stati progressi in tutta la regione del donesk dove continuano a spingere incuranti delle perdite hanno definitivamente catturato il villaggio di zelan e altri piccoli centri attivi geolocalizzazioni di questo video per esempio mostrano alcuni soldati russi hissare la loro bandiera e festeggiare fra le macerie di zativne il testo del messaggio di questo trafiletto dice spero che questo video possa aiuta aiutare gli operatori dronici ucraini le immagini comunque più cruente di questi giorni arrivano da ordica dove queste icone sono i video degli attacchi dronici e dell'artiglieria ucraina che nei giorni fra il 15 il 16 e 17 hanno distrutto l'ennesima colonna russa diretta in centro città altri progressi nella loro invasione i russi li hanno ottenuti presso la città di new york e questo dopo mesi di stallo così più a sud presso il villaggio di vule dar i russi cercano di impedire agli ucraini di essere a tiro della loro linea ferroviaria che è anche la linea logistica più importante della regione per quanto riguarda invece attacchi strategici la russia non è riuscita a ottenere niente di significativo in questi tre giorni in questa pagina per esempio vi mostro la ricostruzione delle traiettorie di missili e droni russi diretti verso kiev o al centro dell'ucraina tutti questi missili sono stati intercettati ma uno di questi ha colpito la città di kumi ieri 18 agosto e questo è l'ennesimo gesto da parte russa che la comunità internazionale condanna l'unica attenuante a questa mancanza di visione capacità militare operatività e che i russi non si fanno scrupoli di bombardare anche le loro stesse città occupate allo stesso modo e di questo ne parleremo anche fra poco comunque l'evacuazione dei civili annunciata da putin insomma era un messaggio parziale perché appunto il discorso completo sarebbe stato evacuate dalla regione di kursk perché dobbiamo bombardare le aree urbane russe quindi eccovi 120 euro è una pacca sulle spalle questo era il messaggio completo secondo me ora due considerazioni su quanto sta accadendo in questi giorni la prima cosa da dire è che gli ucraini hanno dimostrato con i fatti quanto la russia avesse concentrato tutte le sue forze nell'area di invasione del donesk a sud e a sud est in generale e quanto invece avesse sacrificato o alleggerito le forze di sicurezza di confine con l'ucraina in tutte le altre regioni non aspettandosi assolutamente questa offensiva proprio nella regione di kursk è molto difficile dire a questo punto quali saranno i veri obiettivi ucraini ci sono state molte speculazioni sul fatto che per esempio stiano cercando di raggiungere la centrale nucleare di kursk catturare il maggior numero di soldati russi da usare poi come potere di scambio per i prigionieri oppure conquistare quanto più territorio russo possibile tutti questi risultati però concreti e positivi per gli ucraini in realtà li dobbiamo considerare come obiettivi secondari cioè non è per queste ragioni che gli ucraini hanno invaso la russia il motivo principale per cui le forze armate ucraine hanno invaso la russia è stato quello di portare la guerra sul territorio russo per creare una pressione interna sul governo di putin e per far sì che l'esercito russo bombardi le proprie città piuttosto che quelle ucraine quindi se combattere per combattere gli ucraini hanno preferito combattere sul suo russo così i russi bombardano le città russe il motivo per cui hanno scelto la regione di kursk secondo me era perché nell'area c'erano obiettivi secondari altrettanto importanti come per esempio la linea ferroviaria di collegamento logistico fondamentale per tutte le operazioni militari russe la centrale di smistamento del gas per l'europa la centrale nucleare senza considerare l'enorme valore simbolico della regione per la russia inoltre il terreno offriva delle condizioni favorevoli data la presenza debole dei reparti militari russi nella regione questa incursione nel territorio russo ha posto il cremlino in una vera e propria crisi militare e politica i cui effetti li stiamo vedendo proprio in questi giorni putin ha iniziato a sostituire i vertici militari nel giro di pochi ore pochi giorni se non poche ore ha tagliato fuori gerasimov le cui sorti opposizione ad oggi non sono più noti ci sono molte speculazioni a riguardo ha sostituito il capo dei servizi segreti con una sua guardia del corpo personale e questo fra l'altro è molto importante perché ci dà un'idea appunto che probabilmente putin se già non si fidava prima delle persone che lo circondavano adesso si fida ancora di meno insomma solo questi segnali indicano che le cose stanno cambiando molto rapidamente e non solo anche i media russi e la propaganda ha cambiato completamente registro nella propria comunicazione passando dalla solita arroganza con cui si parlava dell'invasione ingiustificata dell'ucraina definendola come operazione militare speciale a quella che è oggi una rappresentazione completamente irreale di vittimismo e finto orgoglio nazionale pescando e ripescando un revisionismo storico per richiamare alla memoria l'invasione della germania durante l'operazione barbarossa per queste considerazioni fra l'altro rimando al video anche di anders pook nielsen che vi passo nel link in descrizione perché lui fra l'altro anche in passato pochi giorni fa ha trattato questo argomento di come sono cambiate le regole di questo conflitto in base alle decisioni politiche per esempio americane e fra l'altro lui sostiene che l'inizio di questi cambiamenti che abbiamo visto in questi giorni è avvenuto a maggio quando l'offensiva russa nell'area di kharkiv si è intensificata e l'ucraina proprio in quei giorni aveva iniziato a ricevere le autorizzazioni da parte del congresso americano e quindi della politica di biden a usare le armi in territorio russo e nella proiezione delle loro incursioni oltre confine una delle conseguenze più importanti dell'attacco ucraino nella regione di kursk insomma è che ha costretto i russi a riconoscere il concetto di confine con una nazione che si vuole invadere e quindi sono passati in un solo giorno ad affrontare una linea di poco più di 900 chilometri di guerra di invasione ad un confine militarizzato da difendere che è lungo praticamente il doppio da come vi mostro in questo disegno e quindi come farà la russia adesso a rinforzare tutta questa linea ed impedire altre incursioni ucraine da dove prenderà le risorse per per schierare un numero così enorme di soldati e e mezzi visto che in oltre due anni e mezzo di offensiva si è bruciata tutte le sue principali risorse e quindi la russia ha solo due scelte praticamente può prelevare i reparti dalle regioni a sud dove c'è la maggiore intensità del conflitto quindi alleggerire in quel settore per spostare i reparti in altre parti che fra l'altro questa cosa la sta già facendo perché abbiamo visto almeno sei reggimenti venire presi da lì e spostati nella regione di corso quindi questo è quello che sta già facendo oppure contemporaneamente può reclutare nuovi soldati che attualmente non sono già non sono in combattimento può farlo in due modi cioè può estendere la durata del servizio di leva o arruolare nuovi coscritti ma questo arruolamento rischia di diventare un grosso problema per il cremlino perché fino ad oggi ha gestito l'invasione dell'ucraina come un'operazione militare speciale una campagna dove ci si poteva offrire volontari per fare qualche soldo quindi le cose cambiano da un punto di vista di definizione di questa campagna e quindi in questo contesto i giovani russi che affrontavano il servizio di leva obbligatorio in realtà non venivano mandati direttamente al fronte venivano mandati al fronte non so i carcerati i coscritti la gente prelevata dai villaggi sperduti i volontari mentre i ragazzi di 18 anni che facevano il servizio di leva relativamente meno anche se li abbiamo visti comunque e non a caso le grandi defezioni che abbiamo visto in questi giorni proprio nella regione di kusque molti erano ragazzini 17 18 anni insomma questo tipo di 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 soldati il cambio di registro quindi che porterebbe putin ad una mobilitazione per rafforzare altri 900 chilometri di confine per evitare le incursioni ucraine potrebbe avere enormi contraccolpi politici minare definitivamente il sostegno alla guerra del suo governo e parliamoci chiaro fra volontari reparti spostati in fretta e coscritti non è detto che la rusca la russa scusate non riesca a trovare altri volontari per difendersi però come dire ci sono tutti segnali che questa operazione di reclutamento per loro è diventata molto difficile li abbiamo visti in questi giorni che ci sono proteste che è difficile adesso per loro dopo due anni oltre due anni e mezzo in cui lo hanno fatto è difficile adesso reclutarne altri quanto sarebbe impopolare insomma per il presidente organizzare una seconda mobilitazione nel giro di due anni perché ricordiamolo la prima c'è già stata nel 2022 era stata fatta questa mobilitazione per aperte virgolette liberare l'ucraina dai nazisti dicevano ora chiediamoci come come la prenderebbe il popolo russo se annunciassero una seconda mobilitazione per liberare una seconda volta la russia dai nazisti che erano stati invasi due anni prima insomma voglio dire qui è piuttosto ovvio che c'è qualcosa che non torna nella narrazione dei fatti o di come dovrebbero essere narrati non si può pretendere che la gente dimentichi quello che è stato detto due anni fa il russo qualunque la madre dei diciottenne di cui non ha più notizia da anni da anni i contadini nelle zone rurali le centinaia di migliaia di feriti e invalidi di guerra la classe medio alta di mosca potrebbe iniziare a farsi delle domande ma no del tipo ma non è che abbiamo fatto una fesseria a invadere l'ucraina e a questo poi bisogna aggiungere l'enorme problema dell'equipaggiamento dei mezzi della logistica necessaria per portare la guerra a questo tipo di scala ok ripeto tutto questo discorso lo sto facendo nella previsione che i russi dovrebbero proteggere anche gli altri confini non solo i 900 chilometri in cui hanno invaso l'ucraina quindi in questa prospettiva quindi cosa farà putin continuerà a spostare le truppe dal fronte a sud verso la regione di kursk come nel gioco delle tre carte aumenterà le proporzioni del proprio esercito ricorrendo a coscrizioni massive della popolazione farà entrambe le cose tutto questo mentre il numero delle vittime fra i suoi soldati continua a crescere perché dobbiamo ricordarlo finora per due anni e mezzo di guerra l'ultimo anno il 2024 è stato quello in cui la russia ha avuto il maggior numero di caduti dall'inizio del conflitto probabilmente per come la vedo io putin cercherà di gestire la cosa come ha fatto finora ricorrerà certamente a recuperare altri coscritti perché sono economici sono carne da cannone e magari ecco ne può inviare un piccolo gruppo alla volta per non generare allarmismo nella popolazione e l'invierà anche nella regione di kursk e continuerà così contemporaneamente a spingere nel donesk come ha fatto in questi due anni quindi non bisogna interpretare questa lentezza nella risposta di mosca all'invasione di kursk come una sorta di blocco o paralisi delle forze armate russe la risposta lenta a questa invasione è semplicemente il modo di gestire le cose secondo il cremlino per avere come si dice la botte piena e la moglie ubriaca letteralmente cioè da una parte riuscirà a ottenere sul breve periodo un rallentamento dell'avanzata ucraina anche a costo di migliaia di uomini non gli importa l'abbiamo visto tanto delle vite umane il cremlino non importa nulla potrà anche bloccarla a un certo punto quando saranno il numero sufficiente nel fronte interno dall'altra parte inviando piccole unità spostandole da altre parti non non saranno dei gesti eclatanti e quindi avrà il beneplacito degli elettori in qualche modo che non perci non riusciranno a percepire la gravità della situazione su larga scala e insomma non percepiranno la stupidità di avere invaso una nazione oltre due anni e mezzo fa se questo richiederà settimane o mesi prima di ottenere una risposta adeguata nella regione di kursk sia insomma sul lungo termine potranno così reclutare altra altra carne da cannone per non so centomila duecentomila unità probabilmente che poi chiaramente non stiamo parlando di professionisti quando si parla di coscritti servizio di leva si parla di ragazzi che non hanno nessuna esperienza militare che non hanno nessuna formazione e non c'è paragone con le forze armate ucraine che ormai sono tutte di esperienza almeno quelle che stanno nella regione di kursk quindi sicuramente poi c'è una grande confusione e caos nei vertici militari al cremlino in questo momento voglio dire anche il cambio dei vertici che è avvenuto è una prova evidente ma questo non significa che non abbiano pensato a una soluzione per arginare l'avanzata ucraina anche sul medio e lungo termine e quindi la conclusione qui fra l'altro ripeto sto seguendo anche il ragionamento che ha fatto anders nilsen di cui passo il link la conclusione è che con questo attacco l'ucraina ha provocato la russia la sta costringendo a muovere i reggimenti dalla regione del donesk ma anche a reclutare nuovi soldati insomma sta forzando la mano per per scatenare questa reazione e quindi in un certo senso l'ucraina sta rendendo l'esercito russo più numeroso in questo momento e questo al costo di arruolare nuovi coscritti e ragazzi del servizio di leva che appunto come ho detto hanno meno esperienza questo incremento del numero dei soldati russi allo stesso tempo può rendere la russia più vulnerabile perché insomma questo questa movimentazione potrà colpire la società russa dove fa più male quindi sono d'accordo con nilsen sul fatto che l'ucraina si aspettava questo risultato cioè sapeva che invadere la russia avrebbe costretto putin a correre ai ripari con queste due soluzioni e con questo vogliono esporre la russia ad ammettere che esiste una guerra e che non si parla più di un'operazione militare speciale insomma esporre la russia poi alla vergogna di essere di vedersi rifiutare il riconoscimento di essere stata invasa a livello internazionale perché è ovvio insomma che chiedere di condannare l'ucraina per quello che ha fatto alla comunità internazionale è stata la beffa voglio dire no ma come prima invadi tu l'ucraina per due anni e mezzo cosa ti aspetti di ottenere no che ti aiuti che l'onu ti aiuti insomma gli ucraini che anche se hanno provocato una risposta eccessiva e forte da parte di putin e a fare a costringerlo a fare un reclutamento di massa si aspettano delle conseguenze inevitabili soprattutto per lui quindi molto di più dell'umiliazione di vedersi sottrarre un pezzo di territorio russo portare molti coscritti in guerra e quindi un passaggio necessario per quello che gli ucraini vogliono ottenere in questo momento stanno cercando di massimizzare proprio le vittime nelle file dei coscritti russi appunto che poi non solo massimizzare le vittime c'è anche poi il discorso di almeno ad oggi più di duemila prigionieri e questo lo fanno per ottenere la maggiore risposta possibile da parte russa anche a costo di ritirarsi dalle aree del donesk se questo gli permette di colpire duro con artiglieria e droni e a questo punto possiamo dire che siamo arrivati proprio al momento in cui questa guerra potrebbe vedere il suo culmine peggiore prima di migliorare come dice nielsen potrebbe la guerra potrebbe mostrarci il suo lato peggiore prima di migliorare per concludere cambiamo brevemente argomento nei giorni scorsi ci sono stati molti commenti al mio video del giorno 10 in cui ho parlato anche del servizio della rai a sugia servizio di stefania battistini ho segnalato alcuni utenti per i loro commenti perché minacce e messaggi di odio vanno segnalati a chi di dovere come sempre è una vergogna come certe persone sostengono la russia tanto da scrivere certe cose ad una connazionale che fa la reporter di guerra pietà pietà per queste persone se poi questo pensiero mio se vi piace tanto la russia dico ma perché non vi trasferite lì sono sicuro che vi accoglierà a braccia aperte e questo lo dico con molta tranquillità per definizione non si può essere italiani e sostenere la russia perché sono due cose opposte il nostro governo la nostra popolazione la farnesina ha fatto dei comunicati molto chiari su quella che è stata l'invasione ingiustificata e vigliacca della russia all'ucraina due anni e mezzo fa quindi bisogna avere le idee chiare comunque a parte questo anche la cnn ieri la televisione statunitense con i suoi reporter ha raggiunto su già territorio lusso due giorni fa vi mostro queste immagini in cui i reporter americani commentano per esempio i danni alla statua di lenin e dell'umilia e parlano della cosiddetta umiliazione di putin ottime parole ottimo servizio anche da parte loro davvero ovviamente ne vogliamo di più di questi servizi perché insomma i reporter di guerra servono insomma dopo i reporter ucraini italiani statunitensi spero ne arriveranno altri più si parlerà di quello che sta succedendo lì più notizie di questo tipo faranno il giro del mondo magari più cittadini russi potranno vederli si spera il diritto di informazione insomma signori miei è sacrosanto specialmente quando si parla di conflitti è proprio compito dei cronisti e dei reporter di guerra indagare e portare alla luce i crimini di guerra le atrocità commesse e coordinarsi con ispettori e tutte le istituzioni internazionali che si occupano di questo non riconoscere questo aspetto fondamentale che questo lavoro che fa la stampa è veramente da non so come descrivere la cosa perché tutta tutta la storia moderna dei conflitti moderni ha una documentazione a una letteratura e certi scandali sono stati sollevati solo grazie alla stampa quindi gli esempi sono migliaia letteralmente a partire dalla seconda guerra mondiale per tutte le guerre che ci sono stati dopo il ruolo della stampa è fondamentale quindi gente che condanna questi reporter perché hanno violato una legge sul confine russo è veramente ridicolo soprattutto perché le leggi russe da un punto di vista internazionale hanno smesso di avere qualsiasi valenza il 24 febbraio 2022 insomma la russia non esiste più da un punto di vista di diritto internazionale si è condannata da sola per quello che ha fatto detto questo chiudo questo video vi passo anche fra l'altro il link di un video di youtube in descrizione che penso che vi piacerà molto vi anticipo soltanto senza spoilerare che ha a che fare con il film la caduta quindi guardatevelo così fate due risate e niente ci sentiamo alla prossima volta come sempre un abbraccio